Ciao a tutti, in tanti mi hanno chiesto diverse volte sia su Instagram che su Messenger e anche sul canale stesso come si montano le massette d'accensione o magari mi ha mandato dei pezzi di filmato dicendo il ciao, il sì che sia, il bravo, quando faccio per accendere a pedali o a spinta la campana a giro come se fossi modalità bicicletta e io la prima cosa che gli dico mi avete montato le massette nel modo corretto e loro dicono in che senso e faccio è perché le massette che sono questi qui d'accensione hanno un senso di montaggio perché per la forza centrifuga devono essere montate in modo che loro si aprono e vadano ad aderire contro la campana nel caso del sistema variatore o nel caso della frizione nel caso del sistema a puleggia in una e nell'altra vengono montate a rovescio da un sistema all'altro e vi spiego anche il perché che è molto semplice, questo è il sistema a puleggia noi davanti abbiamo la puleggia che gira in senso orario la campana della frizione che gira in senso orario e dietro la puleggia che gira in senso orario quindi noi le massette d'accensione le guardiamo, le vediamo quando andiamo a montarle diciamo e quindi cosa dobbiamo fare, dobbiamo montarle in questo modo, vedete nel sistema a puleggia che guardando la campana così dove andiamo a inserire le massette dobbiamo fare in modo che quando andiamo a inserirle nei suoi chiudini che sia a sinistra la ganascia sia in alto e a destra sia in basso ma poi si può anche capire facendo ragionamento logico perché montandola in questo modo quando noi andiamo praticamente a girare la forza centrifuga tende a fare aprire questa qui e anche questa a far aprire sotto così quindi per il sistema a puleggia qua ci sono i chiudini dove si vanno questi due perni fissi dove si vanno a fissare le ganasce le massette d'accensione chiamatele come volete quindi a sinistra massette la massa in alto dove c'è il ferrodeo che va a fare presa e a destra in basso poi ci va il suo fermo sopra questo fermo qua ha una pancia la pancia la rivolgiamo verso di noi e poi andiamo a mettere il suo fermo con un semplice seggere da esterni e così andiamo a chiudere controlliamo che gira bene e noi così siamo a posto la cosa importante che tanti magari non pensano o non lo sanno che queste ganasce quando vanno ad aprirsi per per dare il moto all'albero motore per accendersi il motorino non vanno a fare presa su questa campana ma bensì fanno presa su questa vedete qua il diametro interno fanno presa qui perché questa va montata sopra qua questa è calettata questa qui vedete che ha il taglio che va a prendere sull'albero motore del motorino è calettata sull'albero motore e quindi cosa succede? che quando voi andate a girare la campana gira praticamente libera quindi cosa succede? quando voi fate avviamento con la ruota spingendo o facendo avviamento ai pedali la puleggia dietro questa qui gira in senso orario fa girare la campana in senso orario fa aprire le massette di accensione che abbiamo montato adesso vanno a fare presa sul gruppo frizione qua quindi vanno a fare presa qui questa è calettata l'albero motore gira e mette in moto l'albero motore poi al minimo il motore praticamente al minimo cosa succede? che il motore gira questo qui gira e la campana è ferma al minimo ed è ferma anche la puleggia dietro quando voi poi dopo andate praticamente ad accelerare la forza centrifuga fa allargare queste molle della frizione vera e propria la frizione vera e propria fa presa sulla campana così la campana fa girare la cinghia e la puleggia non so se mi sono spiegato poi con il sistema invece il variatore praticamente noi cosa abbiamo? abbiamo il variatore che è davanti e dietro c'è il gruppo frizione che adesso lo prendo così ve lo faccio vedere dietro c'è questo gruppo frizione qua praticamente adesso questo è un gruppo frizione correttore del 100 davanti il variatore la cinghia dietro questo gruppo qua e la campana che c'è sopra la campana gira anche lei in senso orario come sistema puleggia però c'è una differenza che il sistema puleggia la campana gira in senso orario e noi vediamo come gira in senso orario quindi le massette le avevamo montate con i chiodini la ganascia sopra a sinistra il materiale della ganascia a sinistra sopra e la ganascia a destra sotto questo è il senso giusto in questo caso qua questa campana va montata uguale però se la vedessimo da fuori se fosse trasparente il fatto che lei gira sempre al stesso senso ma è montata non così ma è montata così al rovescio cosa succede? che dobbiamo fare all'esatto opposto quindi come sono i chiodini qua vedete qua la ganascia il materiale lo mettiamo in alto per il sistema puleggia per il sistema avariatore quindi con la campana posteriore lo mettiamo in basso per il semplice motivo che la campana gira nel senso il motore il moterino gira sempre nello stesso senso però c'è una differenza sostanziale che questa campana qua gira nel senso orario però non è montata come noi la vediamo ma al rovescio quindi lei gira così e quindi così abbiamo la dimostrazione girando così che quando gira tende ad aprire questa ganascia e questa e quindi se voi fate una differenza fra queste due vedete che quella puleggia mettiamo il materiale che che deve fare presa sulla ganascia sinistra sia in alto e a destra in basso qua all'esatto opposto a sinistra va in basso e a destra va in alto vedete così vedete in base ai chiodini poi ad esempio c'è la campana della Malossi quella che tanti hanno dei problemi perché raschia o fa presa subito le massette che i chiodini non ce l'hanno qua ce l'hanno così ma il discorso non cambia perché comunque anche ad essere i chiodini in confronto tagliata la chiavetta così il discorso è sempre lo stesso mettete a sinistra la ganascia che sia in bassa a destra che sia in alto sempre in relazione a questi due chiodini di fissaggio adesso anche questa qui vado a metterci il suo fermo che ha la pancia uguale la pancia guardiamo verso di noi e poi andiamo a mettere il suo fermo e così noi siamo siamo a posto ho fatto questo filmato perché in tanti avevano le idee confuse me lo chiedevano e poi anche il modo di esprimersi ognuno ha il suo modo e anche il mio modo di capire giustamente quindi è più facile fare un filmato così almeno avete le idee più chiare quindi in sostanza e anche qui lo stesso discorso quando queste si aprono non fanno presa qua dove vanno a fare presa vedete qui quando si aprono loro fanno presa qua all'interno infatti vedete che qua è bello liscio il certificato loro fanno presa lì le massette di accensione invece poi quando bisogna accelerare per far andare avanti il motorino queste qui si allargano e fanno presa all'interno della campana qua quella che di solito si surriscalda se uno elabora un motorino conviene mettere in C40 o comunque rinforzata per essere tranquilli questi sono i correttori da 100 nel caso del Bravo ad esempio i correttori sono da 90 e la frizione è vecchio modello che non si possono mettere le molle più dure invece questa qui è già una frizione nuova modello si possono mettere le molle della frizione molossi che sono più dure nel caso che fate un'elaborazione alcuni mi hanno anche chiesto ma se io voglio mettere queste ganasce sul ceppo frizione dell'altro modello posso? assolutamente no perché le posizioni dei perni delle tre ganasce sono differenti e anche la distanza sono differenti di diametro e anche di distanza quindi no se volete mettere queste ganasce qui dovete cambiare anche il boccolo frizione che è questo se vi è piaciuto il filmato mettete like se non l'avete già fatto iscrivetevi al canale se è sempre l'amico che mette il dislike ma va bene lo stesso vuol dire che mi guarda e quindi interessatemi i filmati anche lui anche se mi mette il dislike a me va bene basta che mi guardate e quelli che vi guardano con interesse mi fanno anche complimenti mi fa piacere saluto a tutti e ci saranno altri filmati interessanti ciao a tutti grazie a tutti grazie a tutti